Ospiti, ospiti, ospiti. È il momento di Luciano Darcio ed Elisa Filippini, vincitori delle ultime tre gare, il Fettunta, la Coppa Carnevale ed il Colline Metallifere. Ricorderete che nell'annuncio precedente per quanto riguarda questi nostri ospiti era stato più generico, avevo detto che sarei stato invece più preciso nel lancio interno. Ed era questo, vittorie nelle ultime tre gare, Fettunta, il Coppa Carnevale ed il Colline Metallifere. Andiamo a servizio, andiamo allo spazio dei nostri ospiti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Si allargano le telecamere e abbiamo in studio con noi, alla mia destra Elisa Filippini, alla mia sinistra Luciano Darcio, ovvero l'equipaggio vincente degli ultime tre gare, se consideriamo dicembre 2016, che si sono corse nei nostri territori. Fettunta, Carnevale e Colline Metallifere. Volevo vedere se eravate attenti. Comunque va bene. Allora, mi fa piacere il buon Luciano, perché innanzitutto anche lui, come tanta gente, pur essendo datato a 67, gli ha dato una bella stecca di un bel 14 anni, ha iniziato come naviga di chi? Di suo fratello Roberto, perché le cose in famiglia, si sa, sono quelle cose che non so perché, ma poi fioriscono. Sì, esatto. Ora, spiegare a te perché questo tuo feeling con le gare toscane. Ma in Toscana, diciamo io, assieme a mio fratello Roberto, quando facevo il navigatore, siamo venuti tantissime volte, e ci sono sempre piaciute le gare toscane. All'epoca indietro abbiamo fatto anche il ciocco, tutti i Coppa Italia che si facevano nel 94-95, dove avevamo vinti tutti quanti i Coppa Italia nella nostra classe, entrando anche sempre nell'assoluto, l'ho vinti. Diciamo, in Toscana ci vengo ben volentieri. Primo perché? Primo perché mi piace la Toscana e per l'atmosfera che c'è in Toscana. Secondo perché? Perché non per il mangiare. Come a tutti, tu ti ho mai detto, qua si mangia bene. Oltre la Fiorentina, però, tipo al Carnevale, con tutti i ristoranti che abbiamo fatto, non ne ho trovato uno che mi ha soddisfatto proprio. Era Carnevale. Esatto, era Carnevale. Ogni scherzo vale, questo qua deve vincere. No, comunque, venire a correre in Toscana mi piace, la gente, come posso dire, è sucevole, via discorrendo. Anche perché voi dovete sapere che lui è nativo di Meldola, me l'ha detto poc'anzi, esattamente lo stesso paese dove è nativo l'Orso Bentivogli, Bruno Bentivogli. Ciao Bruno, mio grandissimo amico. E poi dopo, per seguire ovviamente, era ancora giovane, suo padre è andato, si è trasferito perché è dovuto andare a lavorare in una di quelle tante attività dell'Emilia. Si, in un'industria. Nelle ceramiche. Nelle ceramiche. E come tale ha detto, dove andiamo? Andiamo a Reggio Emilia. Esatto. Morare dalla Romagna, si è trasferito in Emilia. Esatto. E purtroppo bisogna far così, quando i genitori decidono che siamo piccoli. Sì, beh, io ero piccolo otto mesi, non è che potevo dire, no papà io voglio stare… Non si sa mai, il carattere si vede già lì, però dicono. Sì, no, ma io sto bene a Reggio Emilia, ho la posizione a Reggio Emilia, sono sempre stata a Reggio Emilia. No, le vinco anche in Emilia le gare, poi dipende dalle macchine, è normale, è logico, non si può andare a fare tipo un appennino reggiano con la Clio e poter stare davanti agli R5. Ci sono riuscito in una prova perché c'era la nebbia, perché anche in mezzo alla nebbia io vado abbastanza forte rispetto agli altri. È vero bello quando si corre con la nebbia. Si corre con il fegato in mezzo alla nebbia. È una cosa molto… no, è vero, è vero. Comunque, la sua coesione con la Toscana sta di fatto che lui la prima gara che ha fatto da pilota con una R5, che non è una vettura d'assoluto, ma è una Renault R5 GT Turbo, è stata nel rally della Fettunta del 95, quindi many years ago. E non aveva l'Elisa come navigatrice. No, avevo… A proposito, com'è che vi siete conosciuti voi che poi avete fatto equipaggio? È perché il mio navigatore, che avevamo già preso le note, dovevamo partire per venire giù al venerdì, purtroppo a causa di un problema familiare non poteva venire. Dunque stesso lui si era dato da fare per contattare l'Elisa, che c'eravamo visti al Monte Caio, l'ha contattata e in ultimo proprio pronti via e si è presentata giù al… Questo corrisponde a verità perché mi ricordo… Al venerdì sera. Non sta raccontando una bugia, andate a vedere la nostra quarantesima o quarantunesima puntata del 2016, l'intervista che gli ho fatto io, mi ha risposto allo stesso modo. Quindi è ancora veritiero. E morale tu hai detto, vabbè, insomma facciamo sta gara e… No, veramente, ho avuto il telefonato e mi ha detto, c'è la gara. Bene, quando? No, domani. Ah, bene. Non l'ho visto neanche un metro. Io non so neanche come si chiamano le prove, comunque vabbè, ho detto, proviamoci. Cioè io sono un po', diciamo così, non è che sta data abbastanza facilmente, però ecco andare, sapevo lui insomma come andava, perché gli ho salvato il Monte Caio, perché gli ho dato una salviettina antiappannante, quindi lui è riuscito a fare, esatto, a fare quello che ha fatto a Monte Caio grazie a me, comunque vabbè, sono partito e sono andato e ho detto, vabbè, vediamo come va, è arrivata la mia prima assoluta e… Anche perché era bello il Fettonte, è bello vicidino, eccetera, il Fettonte è sempre stato vicido. È sempre stato così, eccetera, infatti poi ho visto belli raggianti e tutto quanto e fondamentalmente non bisogna mai intervistare l'Elisa finita gara, perché da tutto è quasi riconoscibile rispetto a come è stasera. No, ma perché poi dicono che le donne stanno attenti alle lunghe, io proprio… Invece lei proprio da questo punto di vista… No, no. E lì gli ho detto, beh, scusa, ma sei la vincitrice e vieni in studio, ah no, se non viene Luciano, già subito lì già al dovere, è la realtà. Ide hanno fatto la stessa cosa a Carnevale, ragazzi, dopo il terzo ho detto, non l'hai intervisto più, non me ne frega nulla, o vengono o per me sono finiti, eccoli qua. Comunque è bello vedere perché è un equipaggio simpatico, sempre col sorriso pronto e soprattutto vanno forte, vanno forte perché hanno dimostrato effettivamente che in macchina c'è una bella simbiosi, c'è il fatto stesso che vedendo il loro camera car ho potuto notare che lui segue le note e non va a vista, o non va a memoria, questo è molto importante. E ci sono tante condizioni che permettono di dire che sono un equipaggio top. Quindi, cari ragazzi, quando ve li vedete nell'elenco iscritti davanti, fate un po' i vostri conti perché, eh, anche se si presenta qua con la barba lunga, eccetera, così che è stato cazziato immediatamente. È una per colpa del lavoro. Non si va in video con la barba lunga, eh, semmai con quella di un giorno, che fa figo, fa moda. È due giorni questa. Eh, vabbè, comunque è così. La prossima volta vengo lucido. Abbiamo dovuto aspettare il fatto che i bimbi dell'Elisa stessero con la nonna. Esatto. Perché se no c'è il mercoledì libero. Vorrei dare una chicca su di noi. Oh, prego. Ci siamo presentati a prendere il numerino per lo check down, per fare le verifiche, quelli che dovevano fare lo check, e è stato bellissimo perché sono andata lì, ho preso il mio numero, tranquillo. Quando siamo arrivati al palco, la ragazza che ci dava il numero, ma guardate, mi ha detto, io ti devo dire una cosa. Ho detto, dimmi, ma lo sai che quando sei venuta a prendere il biglietto per lo check, ero convinta che correvi tipo con un N1, un N2, perché mi ha detto, sei arrivata lì. Tranquillo, hai preso il tuo bigliettino, vi siete messi lì, avete preso il sole, non avete brontolato di niente, poi arrivo sul palco e mi fate il primo assoluto. Ecco, questo siamo noi. Era solo quello che volevo dire, perché questo siamo veramente noi come equipaggio. È la verità, a noi piace dare spazio a questi personaggi, perché fondamentalmente la realtà nel mondo delle corse la fanno solo due cose. Il piede di piombo, di solito a destra, e poi fondamentalmente qualcosa in più che vuol dire la coesione, l'unione, il fatto di trovarsi bene in macchina, perché è poi quello che fa fiatamente l'equipaggio, dove porta a fare risultati spesse volte insperati. Perché tu, dobbiamo dirlo, col cavolo che credevi di fare tre su tre. Io quando, tutte e tre le gare, anche al Fettunta, a Elisa gli ho detto, ci penso se fare l'assoluta. Praticamente, quando dico ci penso, ci penso perché di solito punto a andare forte sulla prima. Dopo che vado forte sulla prima, guardo il tempo con gli altri e lì decido se rallentare oppure no. Poi dopo, anche perché purtroppo quando andiamo a provare, io non sono uno, non siamo... Non sei un provatore. No, ma a parte quello, però non provo forte, perché provare con la macchina stradale si mette a rischio la vita delle persone che circolano sulla strada e poi comunque tra la macchina stradale e la macchina da rally, anche se faccio 100 passaggi, non è mai come fare un passaggio con la macchina da rally, diciamo, abbastanza forte e ripeterlo il giro dopo per riuscire a abbassare il tempo. Perché per me il passaggio forte è il primo che faccio e il primo mi va sempre bene, per fortuna. Va bene, ragazzi, abbiamo scoperto qual è il segreto di Luciano. Quindi, alla prossima gara, se ve lo trovate davanti, se tutto quanto, sappiate che se lui sta davanti nella prima prova, mettetevi il cuore in pace perché è già decisa la gara al 90%. Dopodiché può succedere. Poi sono puliti, nel senso che sono stati mandati in verifica, li hanno smontati tutto quanto, eccetera, e hanno scoperto che erano conformi. Quindi questa, tanto di cappello. D'altra parte, poi ho letto sui social tutti questi discorsi, ma perché l'ha mandato in verifica? Che innanzitutto è una cosa permessa dai regolamenti. Uno che arriva può decidere, mettendo dei soldini, di andare a verificare uno o un altro, lo si può fare. Poi dopo, se fosse stato fuori, per carità aveva ragione lui, non ha avuto ragione perché gli hanno trovati conformi, e come tale si è tolto, come dire, un sassolino. Bravo. Però è assolutamente un discorso fattibile. Sono contro quelle persone che hanno infamato uno, infamato l'altro, eccetera, si sa, poi dopo magari si trascende. Però è una realtà vera, è permesso, è previsto dal regolamento fare questo e bisogna fare così. Quindi la vostra prossima gara adesso qual è? Perché il tempo è tiranno. Io adesso a fine mese corro al Rally della Romagna, dopodiché faccio il Rally del Taro. La Air Cup. Faccio il Rally del Taro, poi dovrei fare, anzi, faccio il Città di Modena. Dopo Città di Modena ci sarebbe... Non sai che ne dico degli assoluti del Città di Monaco, se vai a vedere c'è il mio cognome, che ho fatto l'assoluto? Io? Io. Anche io l'ho fatto a Rally. Con il buon Pucci Grossi. Io l'ho fatto nel 2006. Con la Delta della Rest Day, me lo ricordo ancora. Anni fa, tanti anni fa. Tanti, tanti chili fa. Tanti chili fa. E ci hanno premiato con una forma di parmigiano reggiano. Eh, una volta però davano dei bei premi anche a Pava. 44 chili, il buon Pucci mi ha detto, dice, fa una bella cosa, te cosa lo usi a fare parmigiano? Ho detto, niente, non sono mai a casa. E allora con questa forma mi ha detto, ci faccio tutta la stagione in albergo. E così è stato. Gli ho dato la mia metà di forma, eccetera, ed è stato contento. Mi fa, comunque se passi di là, sei sempre ospite, lo sai, non sono problemi. È stato fantastico. All'hotel Donatello, me lo ricordo, c'era la sede di tutto quanto. Vedi, ancora c'è in mente il nome dell'albergo. E quello in centro. Sì. Molto bello. Comunque erano begli anni, come adesso, dove correre fa sempre piacere. Ci sono tanti aneddoti, tante storielle che ci sono intorno. La realtà, prima, però, è divertirsi. Vero? Perché mi è piaciuta un'altra tua risposta che hai detto. Qual è la cosa bella? La cosa bella è correre con lui. E qua? Pum, pum, pum. Esatto. Adesso gli faccio una domanda che, credete, gliel'avevo già detto, gliela facevo, ma la realtà è... Ma tutto il fatto che tu vai a correre con l'equipaggio, con la signora Elisa, eccetera, ma a casa tua, tua moglie, non ha nulla da dire? No, non ha nulla da dire, perché che sia uomo o donna è il navigatore. Non è che si va a correre con una donna e si pensa sempre quello che pensano tutti. Perché poi, io, mia moglie, fin anni fa, era sempre dietro con me, anche quando io correvo con un'altra navigatrice, dunque lo vedeva. Quindi ce l'ha il vizio. Ah, siamo qui. Ho avuto due o tre io come navigatrice, dunque c'era anche mia moglie. Poi dopo è arrivato... Un harem di navigatrici, Luciano, un harem di navigatrici. Complimenti, complimenti. Beh, anche l'assoluta al Modena, la realicità di Modena l'ho fatto con la navigatrice. Ah, fantastico. Molto bene. Andrei avanti veramente per almeno altri dieci minuti, è troppo bello verli qui. Sono riuscito nell'impresa, li ringrazio, perché effettivamente è una questione di ringraziare, perché soprattutto Luciano viene da Reggio Emilia, ragazzi, non è dietro l'angolo, per essere qua con noi. Ringrazio Elisa perché da mamma ha dato i bimbi alla nonna per venire qua e portare avanti una promessa che aveva fatto. Ringrazio voi per la vostra attenzione e soprattutto quando sono in gara loro, dategli uno sguardo perché effettivamente se non sono nei tre sono davanti.